Dalla scorsa settimana, gli ospiti arrivati a Riva del Garda per trascorrere le loro vacanze hanno dovuto fare i conti con un radicale cambio dell'offerta di posteggi pubblici da parte dell'amministrazione comunale, costretta a modificare la propria politica della sosta nel momento in cui il piazzale dell'area ex Cattoi, che per anni aveva accolto migliaia di auto e di pullman ogni giorno, ha chiuso i battenti. La chiusura del parcheggio, a dire il vero, risale allo scorso luglio, nel periodo in cui il comparto dell'ex Cattoi era all'asta per il fallimento della ditta LACOS. Una volta scaduta la convenzione che permetteva al Comune di usufruire di quest'area, affidata alla gestione di APM, il posteggio è stato chiuso e l'amministrazione si è vista costretta a trovare un'alternativa ai 700 posti per auto e pullman. I più penalizzati sono stati proprio i turisti, che continuano a dirigersi in Viale Rovareto, convinti di trovare il parcheggio, mentre sono costretti a fare poi dietro fronte. Alcuni di loro hanno lasciato la macchina all'ex Cattoi, non sull'area sottostante, bensì sulla stradina di accesso a fianco della recinzione in ferro che impedisce l'ingresso al terreno. Ma uno spiraglio, in vista della prossima stagione, sembra aprirsi per quanto concerne un ritorno delle macchine all'ex Cattoi. I nuovi proprietari, la cordata formata dalla società Vinco Energreen di Bolzano e consolida SRL di Arco, guidata dal commercialista ed imprenditore bolzanino Heinz Peter Hager, infatti, hanno chiesto formalmente al Comune la possibilità di riaprire e gestire in proprio l'area come parcheggio. Gli imprenditori, dopo aver constatato, loro malgrado, che le autorizzazioni non sarebbero giunte da qui a breve, infatti il braccio di ferro è ormai evidente, il sindaco Mosaner non risponde alle richieste di incontro avanzate dai proprietari, si sono detti disponibili ad aprire il parcheggio, che a breve sarebbe molto utile anche per il Bike Festival previsto a fine mese. Sarebbe strategico cercare di ridare agli automobilisti la più importante area di sosta della città, almeno durante la prossima stagione turistica.